Siamo arrivati all'italiano, io e inglese. Non ci siamo capiti, se mi fanno rimanere sì, ho vent'anni che sto qua, mi vado via adesso, mi fanno un servire da non piacere usando le manna. Ho cinqu'anni di contratto di dirigenza, poi se mi mettono la guardiona o mi vanno da quattro parte non lo so, però per cinqu'anni ho la possibilità di lavorare con loro. Una cosa mi ha sorpreso, due ore e mezzo di allenamenti il secondo fa, sono troppo. Il nuovo derby è la regia. È bene, però è una battuta, però è un portavortura. È un portavortura. Francesco? Buongiorno a tutti, Francesco? Buongiorno a tutti, Francesco? Non rispondo in inglese. Qual è il nazionale? Ci sono? Cassano, russi. Diciamo addio proprio definitivo. Se non ci vuoi più tornare. Faccio tutto un miscuio. Le ultime tre. 29. C'è 66 domande? Eh no. Qualcuno va anche alla mezza. Francesco, cosa ne pensi del fatto che Olimpia all'Aquila non possa volare? C'è domanda che mi ha fatto? Non ti posso rispondere, sennò mi resta una volta. Ma resta, giù. È una coreografia bella, se dovesse volare. Però non volerà, penso, no? Un'assarmare a farsi in giro. Tanti... I gabbiani, che cosa... Grazie a tutti. Ah, c'è pure Andreazzoli che vuole fare una domanda. Veramente? Prego. Davvero? Ti manda Luis? Dai dai, il microfono. Andreazzoli vuole fare una domanda. Volevo sapere, quando è che la smetti di darmi i gnocchini sugli avambracci? Il mio male è il titolo. Non me lo dici. Come dico dopo, ho quattro occhi. Grazie a tutti. Buona giornata. Se vediamo strano.